ciao ragazzi eccoci ancora qui su guadagnare online con le criptovalute come ogni video vi ricordo di fare un giro sul mio canale ci sono tanti video interessanti vi consiglio di guardarne uno a caso per il momento che è questo qui per guadagnare dollari con il nostro browser quindi praticamente senza fare nulla senza fare mining senza sbattimenti senza cliccare senza fare nulla potete guadagnare dei dollari quindi vi invito a guardare questo video vi invito anche a guardare il video inerente a satominer l'ultimo che ho fatto perché sono arrivato a ritirare 3.900.000 satoshi quindi decisamente un ottimo traguardo bene detto questo vi ricordo di effettuare l'iscrizione al canale molto importante e adesso possiamo parlare dell'argomento della serata ovvero free time clicks benissimo questo sito è un pay to click una ptc cliccando sul link che trovate nella descrizione del video vi si aprirà una pagina pubblicitaria nella quale dovrete aspettare 5 secondi dopodiché vi uscirà il tasto avanti cliccate su quel tasto lì e vi troverete su questa pagina una volta su questa pagina dovete effettuare la registrazione quindi cliccate su register quindi andiamo mettere il nome cognome indirizzo email la conferma dell'indirizzo email un vostro username la password e la conferma della password dopodiché ci verrà chiesto di compilare il capcia che non so mai come si pronuncia però vabbè cap capcia ok dobbiamo scrivere le lettere che troviamo in questo riquadro dopodiché facciamo un click su questo quadratino e clicchiamo su register io ovviamente faccio il login perché sono già iscritto una volta entrati nel sito praticamente questa è la dashboard che ci si apre come vedete ho raggiunto il bonus allora praticamente c'è un obiettivo da raggiungere un obiettivo di click che appunto ci dà la possibilità di guadagnare 4 centesimi al giorno solo con questa cosa più il valore dei click come vedete tra l'altro in classifica sono il primo vedete la bandierina dell'italia e il mio nickname sono al primo posto grazie a il bot che vi consiglio di utilizzare anche in questo video ma torniamo sulla dashboard allora ho effettuato un deposito di 7 dollari e 90 ovvero l'upgrade dell'account come vedete 7 dollari e 90 abbiamo il 50 per cento in più del 50 per cento ci sui click dei referral poi le altre cose va bene non le sto neanche a guardare ci danno 50 punti per ogni diretto referral e via dicendo tra l'altro ogni qualvolta apriate questo questo sito vi si una volta al giorno però vi si aprirà la ruota della fortuna quindi basta cliccare al centro io adesso non ve la posso far vedere perché l'ho già utilizzata basta cliccare al centro della ruota per farla partire e girerà e ci darà un premio in base a cosa ci esce torniamo sulla dashboard come vedete ho un ritiro effettuato da 5 dollari e 32 che mi deve essere ancora accreditato e ho un account da 3 dollari e 32 centesimi guadagnati fino ad ora più 2 dollari e 57 come saldo d'acquisto per eventualmente comprare dei referral sì esattamente per tutte le persone che hanno problemi nel tirar su dei referral con questo sito possiamo affittarli quindi praticamente andiamo su rent referrals per esempio 10 referral ci costano 2 dollari e 57 che però andiamo a prendere da da questo account quindi questi sono i soldi che andremo a ritirare invece questa cifra qua aumenta in base a diciamo gli obiettivi che raggiungiamo con questo sito io tramite diciamo i premi bonus i punti che ho recuperato ho tirato su 7 dollari che poi ho utilizzato per comprare dei referral infatti come vedete ne ho affittati 35 cos'altro dire cos'altro dire cos'altro dire cos'altro dire vi faccio vedere i premi che ho vinto nella ruota della fortuna che vi ripeto vi appare una volta al giorno quindi appena iscritto il primo click andata male poi 200 crediti per ptc poi andata male andata male andata male andata male andata male poi 200 crediti per ptc poi 50 punti 10 punti 200 punti 80 punti 200 punti poi andata male e poi 50 punti ancora quindi decisamente un bel bottino che mi ha fatto comunque salire anche prima in classifica per quanto riguarda i punti quindi vi invito anche a battermi in questo caso niente andiamo a vedere come si utilizza il bot quindi praticamente andiamo a copiarci il link del sito fino a info e mi raccomando non tutto quanto lo copiamo andiamo sul bot che ovviamente avrete scaricato installato clicchiamo su new andiamo a incollare l'indirizzo del sito qui in alto dopodiché inseriamo la username la password e l'email che abbiamo utilizzato per l'iscrizione al sito e schiacciamo ok ok io adesso vabbè lo faccio partire ma ho già fatto tutti i click non penso che parta nulla al momento vediamo ah come vedete ho raggiunto la cifra di 41 dollari e 89 centesimi su books click vedete che ho raggiunto 18 dollari e 72 centesimi in alcuni mi hanno chiesto come mai non sto ritirando praticamente ho avuto diciamo un'incomprensione non ho letto una parte del sito che praticamente diceva che per effettuare il ritiro dovevo effettuare un deposito quindi cosa succede che io effettuavo il ritiro poi mi lasciava me lo rimborsava senza appunto accreditarmi nulla e dovranno passare altri sette giorni perché il ritiro vi ricordo che si effettua vabbè è una cosa che vi spiegherò su un video inerente proprio a books click per adesso stiamo parlando di free time clicks quindi eccovelo qua col mio account che ha raggiunto 3 dollari e 32 centesimi come vedete è partito qualcosa è partito ans books poi è partito visitai.xiz poi multiganios e papakesh sono praticamente ci sono dei nuovi siti che ho aggiunto quindi praticamente nella lista che trovate cliccando il link qui sotto troverete anche nuovi siti del 2019 quindi ci sarà una lista aggiornata sia con i vecchi per chi appunto ancora non si fosse iscritto sia con i siti nuovi del 2019 se avete delle domande delle perplessità volete chiedere informazioni scrivete nei commenti e io vi risponderò nel più breve tempo possibile mi raccomando lasciate un like se il video vi è piaciuto e iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati con tutte le novità e nuovi video che andrò a produrre con questo è tutto vi saluto e alla prossima ciao